E' stata premiata in sala giunta dal sindaco Luigi De Magistris la giovane napoletana Chiara Sarajello, campionessa italiana di box categoria junior 75 kg, accompagnata dal presidente della terza municipalità Ivo Poggiani, la giovane atleta e originaria del rione Sanità ed allieva della scuola pugilistica De Novellis. E' davvero per me un onore oggi essere qui e avere questa premiazione dal sindaco ma anche dalla scuola che mi hanno onorato con la loro presenza, la mia famiglia ma anche ai miei maestri della pugilistica De Novellis che mi hanno sempre sostenuto in tutti i miei momenti. Presente alla cerimonia di consegna del riconoscimento la dirigente dell'istituto superiore Isabella D'Este Caracciolo frequentato dalla Sarajello. Siamo molto contenti di dare questo premio a Chiara che pure così giovane è già una campionessa ma dalle sue parole non è solo campionessa di sport ma anche una studentessa esemplare, una cittadina esemplare della nostra città. Sono questi i giovani prevalenti di Napoli, anche la sorella che è la sua maestra e tanti altri, le compagne. Insomma questo è il talento che va valorizzato e che riempie di orgoglio la nostra città in una scuola dove qua c'è la dirigente che fa un lavoro davvero importante non solo per la scuola ma per la cultura in generale della nostra città. E quindi oggi insieme al presidente della terza municipalità volevamo esprimere la gratitudine di Napoli per queste, in questo caso, donne della nostra città. Grazie. 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 Grazie.